I canti della Missa Criolla del compositore argentino Ramirez hanno accompagnato ieri la celebrazione della Messa di Papa Francesco in Basilica Vaticana per la ricorrenza liturgica della Madonna di Guadalupe. La devozione per la patrona dell'America Latina, ricordato il Pontefice, si estende dall'Alaska fino alla Patagonia. Francesco ha sottolineato che la Madre di Dio ha voluto rimanere accanto ai popoli latino-americani. Grazie a lei la fede cristiana è diventata il più ricco tesoro della loro anima, un patrimonio che è passione per la giustizia, solidarietà verso i poveri e speranza a volte contro ogni speranza. Da qui l'auspicio del Papa perché il futuro dell'America Latina sia forgiato dai poveri e da quelli che soffrono, dagli umili, dai perseguitati a causa di Cristo, da chi è considerato scarto e quindi schiavo. Una richiesta aggiunto che viene perché l'America Latina è il continente della speranza. Da essa si attendono nuovi modelli di sviluppo capaci di mettere insieme giustizia e equità con riconciliazione, sofferenza feconda con gioia speranzosa. Infine la supplica del Papa Maria perché continua ad accompagnare e proteggere il popolo latino-americano, conducendo i suoi figli verso Gesù.